Musica Buonasera a te e ben ritrovati in diretta con l'informazione dedicata al Veneto. Veneto che sceglie, così come il Friuli Venezia Giulia, la linea prudenziale per la riapertura delle scuole in presenza, le scuole superiori naturalmente, che inizialmente, secondo quanto previsto dal Governo, dovevano partire proprio dal 7 gennaio, ma che per volontà di Zaia, con la sua ordinanza firmata oggi, partiranno dal 1 febbraio. Allora andiamo ad ascoltare proprio la spiegazione e le motivazioni del Governatore rispetto a questa decisione. Una decisione ve la porto oggi, ho firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole superiori, vista la situazione epidemiologica, viste le previsioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità rispetto a questa possibile terza ondata, non ci sembra prudente lasciare aperte le scuole superiori e quindi c'è un'ordinanza che prevede il procrastinare la didattica a distanza al 100% fino a gennaio. È un sacrificio, noi tifiamo perché la scuola sia in presenza, però abbiamo anche l'obbligo di analizzare la situazione epidemiologica. Mi sono confrontato e ringrazio la direttrice scolastica regionale, la dottoressa Palumbo, che sempre cortesemente e con professionalità ci affianca. Ho parlato con gli assessori Donazzan De Berti, è inutile che vi dica che ho parlato con l'assessore Lanzarì e ho avvisato anche il prefetto Zappalorto. Vi posso già aggiungere che penso che molti di miei colleghi faranno un provvedimento simile, non so, magari qualcuno l'ha già iniziato ad adottare, però la preoccupazione è una preoccupazione importante. Non abbiamo problemi sui trasporti, che sia chiaro che con le prefetture si è fatto un ottimo lavoro, siamo pronti per una programmazione e un servizio al 75%, come previsto dall'originario decreto, però è pur vero che in questo momento il problema non è non avere i pullman, il problema è un problema di assembramenti naturali che si creano, di ragazzi che devono vivere per ore in ambienti confinati che si chiamano aule, del fatto che spesso sono asintomatici, i focolai ci sono, e tutti gli esperti del mondo scientifico, a iniziare dal professor Paluc, che ringrazio, e ci dicono che non è assolutamente prudente in una situazione epidemiologica come questa, in Veneto e in Italia, aprire in questo momento. Quindi è un sacrificio per i ragazzi che giustamente hanno diritto a una scuola in presenza, lo è a 360 gradi per tutti, ma questo è quello che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi. Tra l'altro nel corso della conferenza stampa Zai ha spiegato anche le modalità per le aziende di trasporto pubblico del Veneto, con l'uso di guardie giurate per controllare eventuali ammassamenti degli studenti alle fermate degli autobus e nei luoghi di maggior frequenza ci saranno 10 agenti non armati che saranno impiegati assieme al personale di controllo dell'Atvo, nel Veneto orientale in questo caso, posizionati nelle autostazioni di Sandrona di Piave, Porto Gruaro e Jesolo, nei punti di arrivo degli istituti delle tre città. Su questa decisione naturalmente si sta scatenando la polemica politica a livello nazionale, allora andiamo a capire quali sono le principali reazioni, anche grazie all'aiuto di Ario Gervasutti dalla redazione del Gazzettino. Buonasera. Sì, buonasera a voi. Ci sono molte reazioni ovviamente negative da parte del governo, in particolare c'è la Ministra dell'Istruzione che ha sollecitato le regioni, in particolare Veneto e Friuli e Venezia Giulia, peraltro senza nominarle, a recedere dal proposito di rinviare la riapertura delle scuole. Ci sono d'altra parte anche altre regioni che stanno facendo delle riflessioni in merito, quindi sostanzialmente anche in questo caso ognuno va per conto proprio. In realtà ci sono delle incongruenze per quanto riguarda la necessità o l'intenzione del governo centrale di portare e prolungare fino al 31 gennaio le zone arancioni, quindi con l'impossibilità di uscire dalla propria regione o di muoversi in alcuni casi da un comune all'altro e al contempo la volontà di riaprire le scuole. Contraddizione che viceversa si possono riscontrare con la volontà di non riaprire le scuole, ma al contempo di aprire per esempio le piste da sci come previsto il 18 gennaio. Quindi come vedete insomma c'è una situazione di grande confusione, confusione di cui raccontiamo nei dettagli anche attraverso un articolo di fondo, un editoriale di Carlo Nordio, queste incongruenze, queste indecisioni che sicuramente non giovano alla chiarezza e soprattutto alle decisioni che devono essere prese. Sull'altro fronte importante di cui diamo conto in maniera dettagliata è quello dei vaccini. Ad oggi il Veneto è la regione che ha fatto il 25% dei vaccini fatti in tutta Italia. Sono stati fatti più o meno la metà delle dosi che sono state fornite. Dopodomani arriverà una seconda fornitura in tutta Italia, verrà distribuita in tutta Italia una seconda fornitura. Quindi è presumibile che nel giro di un paio di giorni la regione Veneto vada a regime per quanto riguarda le velocità di iniezione del vaccino. Una velocità che comunque è assolutamente insufficiente a raggiungere gli obiettivi che il governo si è prefissato, che sono l'obiettivo di completare la copertura vaccinale, la cosiddetta immunità di Grecia del 70% entro il prossimo settembre. Di questo passo, se manterranno questi ritmi, probabilmente si riuscirà non prima di due anni e mezzo. Queste e altre notizie le potrete trovare sul Gazzettino domani in edicola oppure già dopo la mezzanotte per chi è abbonato con l'abbonamento digitale. Grazie, grazie a Dario Gervasutti dalla redazione del Gazzettino e noi ripartiamo proprio da qui, dai dati di giornata relativi all'emergenza Covid-19 in Veneto che vedono rallentare ma non arrestare la crescita dei contagi. I positivi hanno toccato le 1.686 unità nelle ultime 24 ore, cresce di 50 unità anche il numero dei decessi secondo il rapporto della Regione. Il totale dei ricoverati è di 2.706 persone, più 18, mentre nelle terapie intensive sono in cura 368 persone. Nel frattempo, come ricordava anche Gervasutti, è stata ingranata la quarta nella somministrazione dei vaccini. A stamane erano stati inoculati 16.748 vaccini in Veneto, pare al 43,1% dei 38.000 in magazzino. Ascoltiamo dunque anche un passaggio proprio riferito a questo argomento da parte del governatore del Veneto, Zaia. Sono stati somministrati 16.748 vaccini, ovvero il 43% del magazzino è già stato somministrato. Sì, adesso mi giro, non preoccupatevi. Questo sta a significare l'efficienza della nostra macchina vaccinale, cioè noi siamo partiti, stiamo raggiungendo la velocità di crociera, considerate che facciamo vaccinazione fino alle 10 e mezzo di sera, e considerate che avere fatto il 43%, sostanzialmente in due giorni, ci permette oggi, sperando che arrivino le 38.000 dosi settimanali, perché arrivano il lunedì, di dire che questa settimana noi avremo somministrato 70.000 vaccini. Dopodiché, ovviamente, cominceranno poi anche i richiami, ma vi ricordo che ogni persona che viene vaccinata ha già l'appuntamento per il richiamo. Domani ci sarà la dottoressa Russo che vi fa un focus sui vaccini. Penso sia utile, così lo fa a ragion veduta, anche da un punto di vista di distribuzione delle dosi, territori e quant'altro. Veniamo ora all'aggiornamento sul maltempo, che ha interessato tanto la montagna del Veneto. La situazione è attualmente sotto controllo, secondo quanto riporta l'assessore regionale alla protezione civile, Gian Paolo Bottacin. Grazie anche a un grande spiegamento di uomini e mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco con il supporto dell'esercito. Sono oltre 200 quelli già effettuati dall'inizio dell'emergenza neve e oltre 80 in attesa di essere eseguiti. Le squadre permanenti e volontarie, con il rinforzo anche dei colleghi giunti dalla Lombardia e dal Trentino Alto Adige, stanno lavorando principalmente per alleviare le difficoltà dei residenti. Le operazioni vengono fatte sui tetti per sgravare il peso della neve e liberare i comignoli per evitare il blocco delle caldaie e dagli accumuli di neve che possono causare i danni. Altri interventi per liberare le strade con le frese, raggiungere i posti isolati. Stamattina una famiglia in Valle Seren del Grappa è stata raggiunta proprio con il gatto delle nevi ed evacuata. Andiamo a Venezia perché l'altra emergenza costante che interessa da vicino la città lagunare è quella dell'acqua alta e allora il sindaco Brugnaro in queste giornate è voluto tornare a fare il punto sulla situazione del Mose e sul suo futuro anche contro gli attacchi che continuano ad arrivare sull'infrastruttura. Entrerei nel tema che mi sembra evidente, il Mose. Il Mose, i no Mose e quelli che non ci sono più, il Mose che funziona da quando sono piccolo difendo l'opera di ingegneria. Poi sulle liberie per fortuna c'è la procura, per fortuna ci sono i tribunali, ci sono altre sedi, non mi competono e so stare al posto mio. Quello che è certo è che vogliamo che vi venga fatta giustizia e giustizia io credo che alla fine, lenta o veloce che sia, verrà fatta. Quello che a noi interessa è che oggi il Mose funziona, una grande opera di ingegneria e vogliamo capire chi lo gestisce. Vediamo il Mose. Il Mose è sollevato, possiamo vedere che la marea è da distillare. In questo momento sono 70 cm di dislivello tra il mare fuori, qua siamo a Malamoco e dentro la laguna. Adesso aspettiamo altre due ore di apporto perché a noi risulta un picco adesso, in questo momento fino a mezzogiorno dovrebbe tirare il vento di scirocco. Però la differenza è evidente, il Mose è stabile, restiamo in attesa, siamo fiduciosi, però per il momento siamo soddisfatti. Noi, crociamole dita ancora. Buon test e veramente una buona serie di dati utili per la messa a punto definitiva. Un tema che tanto ci ha appassionato, ci appassiona ormai da molti anni, è il tema collegato col Mose. Il Mose è il sistema della difesa delle acque alte, ma il Mose richiama anche tutti i temi della laguna, richiama i temi del porto, della salvaguardia della città, del centro storico, appunto dalle acque alte, ma riguarda più in generale tutto il sistema della salvaguardia, proprio dell'unione dell'acqua che lambisce tutto il territorio della laguna e di tutti quanti i comuni e di quello che l'UNESCO chiama buffer zone, per cui di tutta la zona che poi deve essere messa a tutela per difendere appunto la storia e il futuro, soprattutto della città di Venezia. Quella che io immagino grande, metropolitana, che ci coinvolge tutti, nel bene e nel male. Però l'opera ingegneristica in sé ha qualcosa di oggettivamente straordinario e di enormemente innovativo. Non è un ponte che ha una storia tecnico, costruttiva, ingegneristica, assolutamente consolidata. Pensate, i ponti si facevano dal tempo dei Romani, no? Per cui con tutta una anche esperienza gigantesca. Questo è un sistema che prende avvio, cioè è stato pensato così a quel tempo, tanti tanti anni fa, decine di anni fa, perché per un'idea anche ambientalista e paesaggista, paesaggistica della difesa della città, si è pensato che non si dovesse vedere nulla. È un grande simbolo di resilienza e anche di innovazione tecnologica. La città metropolitana di Venezia piange oggi. Uno dei suoi sindaci è morto, Alberto Polo, primo cittadino di Dolo, a soli 46 anni. Si è spento nella tarda mattinata all'ospedale di Mirano, dove era stato portato ieri per complicazioni relative alla malattia, contro la quale combatteva da circa un anno e mezzo. Era sposato e aveva due figli. Il comune di Dolo lo ha comunicato ufficialmente. Si è andato con grande serenità, senza sofferenza, accompagnato dai suoi cari presso la struttura sanitaria. La Giunta e tutti i consiglieri comunali si stringono attorno a Claudia, Adelaide e Gerardo. Polo era stato riconfermato sindaco alle scorse elezioni del settembre 2020, dopo essere già stato alla guida della cittadina nei cinque anni precedenti. Tra i suoi tanti impegni in favore del territorio, e anche quello contro i pericoli connessi dalle infiltrazioni mafiose nel nord-est. E a proposito di mafia, della Mala del Brenta in particolare, ritornano d'attualità alcuni dei componenti della loro banda. Minacce per intimidire i debitori, incendi dolosi e spaccio di cocaina. A coordinare il tutto era, secondo quanto accertato dai carabinieri di Venezia, Luciano Maritan, 55 anni, nipote di Silvano, appunto ex Mala del Brenta, già in carcere per omicidio e figlio di Lino. Luciano e Lino sono stati arrestati nell'operazione conclusa stamattina dai carabinieri della Compagnia di San Donà, assieme ad altri cinque complici italiani. Sono tutti accusati in concorso di incendi dolosi, estorsioni e spaccio di droga, e tutti hanno precedenti. Luciano in particolare era già stato in carcere tra il 2018 e il 2019, sempre per estorsione. Anche Silvano, indagato, avrebbe partecipato indirettamente alle operazioni dal penitenziario. Chiudiamo con lo sport, la Serie B in campo. Il Venezia nel pomeriggio si è fermato sull'1-1 contro il Pisa. Davanti a sé è trovato l'ottimo perile, il portiere della formazione toscana, un Venezia che comunque ha sfiorato anche la vittoria. Nella ripresa lagunaria hanno continuato ad affondare il colpo dopo lo svantaggio. Al 68esimo Boccalona è insaccato ma in fuorigioco, poi al 79esimo la doppia occasione di Forte con il Pisa che salva il risultato grazie proprio al portiere. Il gol del pareggio arriva all'83esimo con Svoboda che salta più in alto di tutti e insacca. Le altre Venete con il Chievo Verona che vince sulla Cremonese per 2-0. Il Cittadella invece sconfitto dall'Entella 1-0. Stasera in campo il Vicenza contro il Brescia. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buona serata a tutti.